Sono Gianni Cazzola, ero già nato nel 74, nell'epoca di cui parliamo oggi, cosa facevo? Mi ero diplomato, avevo 19 anni direi, mi ero diplomato, non lavoravo ancora, allora ero, come usavo in quel periodo, impegnato in diverse cose, impegnato nel Partito Comunista Italiano, impegnato con l'Arci, non lavorando avevo ancora molto tempo a disposizione, a quell'epoca e a quell'età si fanno molte cose, in particolare ricordo che questa cosa qui delle bombe, io avevo collaborato parecchio alla famosa vigilanza, con le iniziative di vigilanza, proprio perché facevo attività di partito. Io non ricordo molto la sequenza degli episodi, perché appunto sono passati molti anni, ricordo bene direi il clima, che era un clima naturalmente di grande preoccupazione, ma anche positivo, nel senso che comunque la reazione che era stata messa in campo aveva anche creato lo spirito positivo, non di rassegnazione, non di disperazione, ma pur nella paura comprensibile di un tentativo di reagire. Qual era stato questo tentativo di reagire? Era stato fondamentalmente il fatto che nei vari quartieri della città erano stati costituiti questi centri di vigilanza, dove si organizzavano delle tornazioni, specialmente di sera e di notte, per creare un clima di sicurezza. E a questi turni di vigilanza, a queste attività di presidio del territorio, io ricordo che aveva partecipato veramente, veramente molta gente, questo lo ricordo bene. Io abitavo nel quartiere di Oltre del Timbro, in via Maciorcio, e appunto collaboravo, ero segretario della sezione del Partito Comunista che si trovava in via Aglietto. Adesso non ricordo se a quei tempi lì si chiamava già via Aglietto o si chiamasse ancora via Pescetto, comunque quella che attualmente è via Aglietto. Ricordo, e questa cosa non è ininfluente in realtà, ricordo che appunto io, insieme a delle altre persone, ovviamente avevamo cominciato a collaborare con questa sezione del Partito che era nelle case operaie, in una situazione anche un pochino di degrado dal punto di vista delle strutture, e dico questa cosa che assurdamente non è ininfluente nella descrizione della cosa, avevamo fatto anche un lavoro di, ma non solo di pulizia, di restauro della sede di questa sezione che era, adesso è un po' difficile da descrivere, comunque quasi uno scantinato di questo lungo edificio di via Aglietto che erano le case operaie e che era in una situazione di degrado, che invece avevamo ristrutturato e a quel tempo lì era stata appena ristrutturata, riembiancata, insomma sistemata negli aree di, era anche, era anche diciamo carina e questo c'entra perché per questo motivo si scelse quella sede lì come scelta, come sede del comitato di vigilanza, perché appunto la sede era bella pulita, era stata sistemata abbastanza bene, quindi si scelse quella sede lì. Io ricordo che oltre alle persone che giravano attorno alla sezione parteciparono a questa iniziativa di vigilanza molte altre persone, soprattutto ovviamente cittadini non etichettabili, molti sicuramente sì, ma soprattutto molte persone che giravano attorno alla parrocchia di San Giuseppe, perché questo è l'altro elemento che credo che sia importante da ricordare per quell'epoca lì, era vivo e anche molto vivace il comitato di quartiere, il comitato di quartiere che si riuniva o in parrocchia o presso la CISL che ha di nuovo la sede lì. Poi successivamente trovarono una sede sempre in via aglietto al Consiglio di quartiere a quei tempi lì e quindi anche queste persone del Consiglio di quartiere parteciparono a questa cosa. Altra cosa che io ricordo è che io personalmente in realtà non ho fatto credo neanche un turno di vigilanza, perché io facevo quello che si occupava di stabilire i turni, di procurare quel minimo di generi di conforto, caffè, aranciate, acqua e minerale per le persone che facevano i turni, quindi io in realtà avevo svolto quella funzione lì, ma questa cosa era andata avanti per parecchi giorni, sempre con una interessante partecipazione. Per quanto facevo io personalmente, sì, è molto semplice, tenevo aperto, scrivevo i turni, organizzavo i turni di presenza, mi occupavo appunto di un minimo di cose organizzative, far trovare queste persone un caffè quando arrivavano, raccogliere segnalazioni che però onestamente peraltro non ricordo ci fossero particolari segnalazioni, a parte un episodio che ricordo e che fu che un'altra, una persona che appunto faceva parte della sezione, un giorno penso ritenne che ci fosse, mi sembra un'automobile o comunque un qualche episodio sospetto, ma non durante i turni di vigilanza, proprio in generale, che questa persona credeva di aver notato o aveva notato questo fatto e allora chiedemmo un appuntamento al comandante della stazione dei Carabinieri che sempre a quei tempi era lì in Corso Ricci sull'angolo con via Domminzoni e questo ufficiale dei Carabinieri fu molto gentile, ci ricevette, ma non credo che prese molto sul serio la nostra segnalazione. Il comitato nacque dall'incontro appunto tra la sezione che ripeto faceva molta attività in quel periodo lì, comunque questo gruppo parrocchiale che era arrivace e il consiglio di quartiere che poi comunque a sua volta era fondamentalmente di nuovo l'incontro tra parrocchia e consiglio. Credo che la decisione, a parte che, allora, intanto questa decisione veniva presa in tutti i quartieri di Savona, quindi non è che fosse un'idea nata lì chiaramente, però credo che la decisione venne presa appunto in un incontro tra la sezione, il consiglio di quartiere, queste persone della parrocchia, quindi fu una decisione condivisa e come dicevo prima, la scelta della sede fu proprio per quel banale motivo lì che era stata appena sistemata, quindi era pulita, ben accogliente, fu scelta quella del partito, ma non perché l'iniziativa fosse un'iniziativa particolarmente targata a PC, ma proprio per quel motivo molto concreto e molto semplice che ho detto. Su cosa è cambiato nel sentire della gente tra l'ora ad oggi è un pochino difficile da dire perché è sicuramente condizionato dal fatto che appunto c'è anche un vissuto personale per cui c'è sicuramente un rimpianto, se si può dire così, per un'epoca dove sicuramente la partecipazione, la consapevolezza della gente era sicuramente maggiore di oggi. Il fatto stesso che questo episodio, al di là del tempo, che cancella i ricordi o cosa, ma il fatto che questo episodio oggi sia pochissimo conosciuto, il raccontato dei Savonesi, credo che la dica lunga, io ricordo che il sentimento di allora appunto, certamente di paura, di preoccupazione, ma anche molto propositivo, nel senso che comunque sembrava di costruire dei rapporti anche diversi, più avanzati, di costruire degli elementi di partecipazione della gente, alle questioni sociali, ma pubbliche, insomma, io credo che oggi onestamente sarebbe impensabile e questo è un elemento di riflessione molto amara, però bisogna tenere conto che c'è anche il fatto che un conto è quanto può percepire un ragazzo di 19-20 anni, quindi con l'entusiasmo, l'energia che si può avere a quell'età lì, piuttosto che poi quanti anni sono passati, 40-50, quindi sicuramente quell'elemento lì incide, però temo, temo che quella cosa lì, con quelle caratteristiche, con quella disponibilità, con quella disponibilità anche a superare le divisioni, perché io ricordo che a questa cosa parteciparono persone di orientamenti diversissimi, persone non impegnate, insomma, credo che una cosa di questo tipo qui oggi, purtroppo temo che non sarebbe possibile. Quegli erano tempi di movimento studentesco, credo che non passasse anno che non ci fossero delle manifestazioni studentesche, delle iniziative, perché anche lì il clima era quello, io non ricordo che lo scientifico fosse, come dire, una scuola all'avanguardia del movimento studentesco di Savona, forse erano altre e comunque cambiavano di anno in anno, perché lì se c'è una caratteristica del movimento studentesco, come ben sapete, quella di essere mutevole, che era anche il suo aspetto più positivo, poi non inquadrato in schemi politici o organizzativi o partitici, quindi ogni anno era diverso, però direi che lo scientifico ha sempre partecipato, è stato anche sede di elaborazione nella generazione precedente alla mia, c'erano stati anche personaggi importanti della politica savonese che erano passati di lì, quindi sicuramente una sede anche di elaborazione e di discussione, non lo vedo come scuola all'avanguardia, ma sicuramente ha sempre partecipato. Ricordo questo episodio che direi all'inizio di dicembre, andiamo con il segretario dell'Arci di allora, che era Silvano Parodi, andiamo a Roma a non so quale convegno, non so quale cosa, e eravamo chiaramente molto condizionati da questo fatto che a Savona succedevano queste cose qui, per cui sul treno, dopo la Spezia, Pisa, quelle parti di... Comunque ci sembrò di notare dei movimenti strani, di persone che si spostavano, si chiudevano nei bagni, e condizionati da questa cosa qui ci siamo messi ad andare a vedere, a guardare nei bagni se qualcuno avesse lasciato una bomba o una cosa così. Il risultato però fu che fu il controllore a notare noi, e ci accorgemmo che il controllore ci teneva d'occhio, e la situazione era diventata anche un pochino imbarazzante, così andavamo dal controllore al bigliettaio, e gli spieghiamo questa cosa, gli abbiamo detto siamo di Savona, come saprà Savona, e quindi siamo un po' sensibili. E lui ci spiegò che in realtà in quella tratta lì, probabilmente Pisa, l'Università, c'era molta gente che saliva senza biglietto, faceva i pochi chilometri e scendeva alla fermata, che so io, di Pisa, eccetera, studenti probabilmente, senza pagare, e quindi era abbastanza normale questo movimento di persone che cercava di fare quel pezzo di strada lì senza pagare il biglietto. Però l'ho detto, l'ho raccontato, per una stupidaggine, ma l'ho raccontato perché appunto è significativo di come credo che le persone a Savona non terrorizzate, non eccessivamente impurite, ma sicuramente molto segnate da queste esperienze lo erano state.